Regna il caos sul futuro e lo sviluppo del Gran Sasso. Nei giorni scorsi gli ambientalisti, che si oppongono agli interventi da 40 milioni sugli impianti e le strutture in quota, hanno esultato affermando senza mezzi termini che la nuova seggiovia non sarebbe mai stata realizzata, che si sarebbe solamente proceduto alla sostituzione delle fonteri nella posizione in cui si trovano ora e che i confini dell'area del parco non sarebbero stati toccati. Un ottimismo seguito ad un incontro avuto con il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli, che secondo le associazioni avrebbe fornito rassicurazioni e garantito il rispetto delle richieste avanzate in più occasioni, ovvero di stornare i fondi su opere meno impattanti. Lo stesso Lolli ha poi precisato che qualsiasi tipo di opera futura dovrà essere compatibile con le prescrizioni previste nel Peno d'Area, che oltre alle seggiovie Fonteri e Monte Cristo parla di valorizzazione della rete senteristica e dei rifugi con risorse regionali, sviluppo del distretto turistico montano del Gran Sasso con i suoi borghi, rilancio dell'economia turistica locale e dei piccoli comuni del crateresismico, interventi sull'impiantistica sportiva e altre belle cose di cui però si parla da anni nel capoluogo. Parole, quelle degli ambientalisti e Lolli, che hanno provocato una levata di scudi da parte dei componenti del comitato referendario, nato di recente, che punta ad arrivare a una consultazione popolare per rivedere i confini del parco e utilizzare 40 milioni per nuove strutture, in grado di rendere competitivo il comprensione di campo imperatore con i bacini scistici più blasonati. Una sorta di guerra di trincea in cui in mezzo c'è sempre il Gran Sasso, con la stagione scistica ormai alle porte, sul corno grande è già arrivata la prima spolverata di neve, ma che rimane in una condizione di semiabbandono, con il bar e i punti di storia ancora senza un gestore e con una privatizzazione annunciata da mesi che puntualmente viene rinviata perché nessuno finora ha risposto al bando per poter prendere in gestione albergo e impianti di risalita.